Ciao a tutti ragazzi e ragazze da Richiedebo97, sono qui oggi è lunedì 3 giugno e sono qui del mio giorno libero, ho fatto questo primo video ASMR, però non so se sta piacendo più di tanto pensavo un po' meglio sinceramente e comunque ho fatto il mio anno tra virgolette molto silenzioso facendo vedere solamente i rumori e facendo vedere dove sono andato solo con i rumori e con il video e comunque mi sono fatto questo tatuaggio, vediamo se si vede, spero che si veda che sono i doni della morte questo però questo tatuaggio qua è un tatuaggio un po' diverso, è stato fatto veramente da uno bravo, se posso dire è mare di inchiostro, sandana di piave di fronte al back and cheek perché ovviamente io vengo da sandana di piave perché io ancora non l'avesse capito. sono qui che adesso faremo un video per un mio amico, aiutare, per un rapper Martin Hunter e allora le elezioni politiche, visto che io sono in sforza Italia e qui lo dico e qui lo nego è andato abbastanza bene perché mi aspettavo peggio, sinceramente tatuaggio, tatuaggio molto molto male perché è stato sotto tre ore però su Harry Potter è un tatuaggio che volevo farmi assolutamente, sono arrivato a 5 e l'8 farà un tatuaggio piccolissimo però che farà molto ridere, l'8 giugno mi farà un tatuaggio che farà molto ridere oggi questo giugno è iniziato bene per fortuna col caldo perché non ce la facevo più andare via con la giacchettina perché finora maggio come tutti avete visto ha fatto schifo veramente ha fatto schifo 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 che dire dopo ieri ho bevuto un po' sono stato molto pessimo come persona perché vabbè ho bevuto un po' in casa tanto che non bevevo e poi cosa dire dopo andrò anche al mare mi farò un tuffo anche in mare perché sono bianco latte praticamente e vorrei proprio visto che è giugno vorrei farmi anche un tuffo in mare anch'io un saluto da Ricky Demo 97 e per il momento stop ciao finito di girare il video adesso lo montano e poi uscirà e aspettiamo aspettiamo comunque adesso mi ritorno a Jesolo e bagno di notte hola ciao a tutti ragazzi sono qua a Jesolo fra un po' ci andremo a fare il bagno dentro qua comunque ho notato che adesso vi farò vedere c'è un castello di sabbia bellissimo guardate cioè è una roba veramente bellissima enorme cioè è grande quanto me è disteso eh è fantastico mai visto un castello di sabbia fatto così bene devono essere stati proprio esperti o non aver avuto niente da fare ma per tutto il giorno perché cazzo comunque guardate sono a Jesolo guardate c'è un tramonto che è favoloso ho i capelli un po' dovevano ovunque là c'è la mia amica Melissa qua che cammina sul mio dito comunque stupendo bravi complimenti una bellissima opera d'arte un applauso ciao ragazzi e ragazze non sono riuscito a riprendere quando entravo in acqua oppure quando sono uscito perché il telefono mi è morto comunque vi dico che è stato bello il mio primo bagno del 2019 finalmente l'ho fatto e che dire seguitemi speriamo tanto adesso all'otto andrò a fare un altro tatuaggio poi farò uno qua dentro che c'è scritto be happy e alla prossima seguitemi Ricky Debo 97 ciao